Si è ridotta l'intensità ma persiste lo sciame sismico con epicentro al largo della costa pesarese e anconetana. Ieri la scossa più intensa è stata di magnitudo 2.9, oggi di 2.6. Sperando che non siano più questi i numeri di cui preoccuparsi, i numeri di maggiore attualità sono diventati i quasi mille interventi di verifica dei vigili del fuoco su edifici potenzialmente pericolanti fra il pesarese e l'anconetano. Questo weekend è stata ad esempio dichiarata inagibile un'abitazione in strada panoramica Ardizio con una famiglia accolta da un albergo. Per quanto riguarda la chiesa dei Cappuccini che già si era vista sgretolare parte della statua della Madonna, ora risulta inagibile la chiesa stessa dopo la verifica da parte dei vigili del fuoco con droni sulle guglie e su parte del tetto. Ma il caso più eclatante è stato quello della centralissima via della robbia che da ieri è stata chiusa al traffico per il rischio potenziale di crollo della ciminiera dell'ex fornace Molaroni. Un rischio che ha coinvolto diverse abitazioni dichiarate inagibili per un totale di una trentina di persone che ieri sono state evacuate dalle operazioni di vigili del fuoco, polizia municipale e protezione civile. Fra queste anche l'ex parlamentare Alessia Morani che ieri era fuori Pesaro. Operazioni di evacuazione seguite di persona anche dal sindaco Ricci. Si è stato prescritto di fare spostare le persone che abitano qui intorno, sono circa una trentina le persone che abbiamo dovuto evacuare, che stiamo facendo evacuare. Abbiamo trovato la disponibilità di un hotel di Pesaro, hotel Cesar, che le ospiterà e abbiamo preso subito contatti con la sovrintendente perché l'obiettivo che ci porremo da domani mattina è quello di fare smontare questa torre che è pericolante e che appunto mette in pericolo le persone che vivono sotto. Ovviamente la via, via Luca della Robbia, sarà chiusa, sarà chiusa al traffico e sperando che questo lavoro, che è un lavoro privato perché la struttura è privata, è condominiale, è il condominio di chi abita qua e riesca a fare questo lavoro il prima possibile, sperando di ridurre al minimo i disagi a coloro che in questo momento sono costretti ad andare in hotel e a coloro che non possono passare in questa vita. E così, da ieri ci sono circa una trentina di persone che da via della Robbia hanno traslocato in Viale Treste all'Hotel Cesar a tempo indeterminato. Fra queste anche il ceramologo Leon Lorenzo Loretti, vedovo di Marcella Molaroni, capostipite dell'omonima storica azienda ceramista. Da molto tempo che si pensava che era pericolosa, ha capito, perché la ciminiera è del 1880, è alta 25 metri, è pericolosa perché è piuttosto crepata, ha capito, finalmente si sono decisi dopo la scorsa del terremoto di fare un accertamento. Io non l'ho visto ma mi hanno detto che sono venuti i pompieri con i droni e poi la conclusione è che si hanno mandati via. Questo è proprio pericolante. Svegliato male perché al mattino mi hanno impimato di dovevo sloggiare in quanto la ciminiera era pericolante. Così ho preso la sprovvista, ho raccolto un po' di quello che potevo raccogliere per scappare via. Poi invece parlando con un vigile mi ha detto che è pericoloso, però con calma faccia. E allora mi sono un po' tranquillizzato perché avevo preso un po' paura.